visto che dopo il viaggio nuovamente in toscana nuovamente con 24 cavalli per il base camp del 6 per cento mi avete chiesto in molti di parlarvi dell'attrezzatura che ho utilizzato per il moto camping eccoci qui allora intanto come sapete ho utilizzato per questa avventura una royal enfield himalayan modello 2022 lei è stata leggermente rivista per il 2023 ma io ho utilizzato la versione 2022 che poi condivide il 99,9 periodico delle caratteristiche configurazione totalmente stock non è stato cambiato nulla ma è stata caricata con una serie di bagagli allora partirei da quelli per prima cosa cioè per sopravvivere al campeggio ho scelto di utilizzare questo travel bag pro travel bag di sv mote da 65 litri ultra caricabile perché ha sia un tascone centrale che poi vediamo nei dettagli sia delle tasche laterali per tutte le evenienze e invece per la parte tecnologica per l'acqua per il giacchettino aggiuntivo ho utilizzato lei sempre di sv motec ma in questo caso una bella enduro bag da serbatoio l'altro elemento che non poteva assolutamente mancare è il solito rinfresca sì che poi è il sit cover di tucano che ha fatto egregiamente il suo lavoro ma non avevo dubbi avvicinandoci qui invece vediamo il supporto della insta one x2 ho utilizzato la x2 perché la x3 non l'avevo caricata e quindi ho dovuto fare così e il supporto per il telefono lampa ho utilizzato sia il mio iphone sia un pixel sia posizionato qui per vedere dove stavo andando quindi come potete ben capire un'organizzazione tutto sommato spartana in pieno stile enduro in pieno stile himalayan lei fa proprio sognare avventura destinazioni fuori mano ed è un po quello che è accaduto al base camp del 6 per cento infatti se non vi siete guardati già il video recuperatelo subito perché oltre al viaggio c'è una bella sezione in enduro e c'è anche la prova di un himalayan tutt'altro che stock in quel caso ora però direi che è il momento di guardare da vicino l'attrezzatura che ho utilizzato per il campeggio consigliatemi secondo voi se ho preso qualcosa che non mi serviva o che potevo prendere diversamente io vi posso dire che durante il campeggio non ho avuto nessun tipo di problema se non uno cioè che il materassino alle 3 di notte ha deciso improvvisamente di iniziare a sgonfiarsi sì vi faccio vedere da vicino così è più comodo per me per voi apriamo intanto la borsa enduro perché qui abbiamo ciò che mi ha veramente salvato cioè questi guanti cinesissimi riscaldati ma non li ho attivati mai si può attivare così la batteria adesso col sole non vedrete nulla ma è rossa loro sono ancora umidi mi hanno davvero salvato però perché abbiamo preso un bordello d'acqua in alternativa ho utilizzato questi guanti qui che vedete durante il percorso in enduro che sono guanti invernali con le protezioni perché questi non hanno le protezioni però sono meno caldi di questi motivo per cui poi per buona parte degli spostamenti ho utilizzato loro delle 9 più 7 ore di viaggio mentre per l'enduro ho utilizzato quelli perché faceva freddo ma lì cadendo mi sarei fatto male quindi avevo bisogno delle protezioni tutti gli accessori prodotti che vedrete in questo video sono in descrizione poi qui abbiamo un altro elemento fondamentale che ho scoperto essere veramente fondamentale cioè l'antipioggia è un antipioggia economico di appro ad alta visibilità perché è verde evidenziatore sia gambe che petto lo avete visto nella seconda parte del viaggio il ritorno e quello che mancavano erano i calzali che non servivano perché avevo poi vi parlerò dell'attrezzatura ma anche una protezione per i guanti per questi guanti che non avendo utilizzato delle buste dei sacchetti comprateli ci sono anche in descrizione i link dei sacchetti perché quei sacchetti neri ragazzi mi hanno salvato mi hanno permesso di sporcare meno la tenda di isolare i guanti di fare tante altre cose di utilizzarli come sacchetti dell'immondizia insomma sono strepitosi poi quindi oltre all'antipioggia che è fondamentale e che risiedeva nella borsa serbatoio ci sono delle comode pratiche utilissime salviette ed erano accompagnate anche da una bella confezione di fazzoletti tempo queste robe come i sacchetti in campeggio servono sempre comunque specialmente in un motocampeggio quindi non fatevi problemi acquistate di partiti organizzati piuttosto che poi sentire la necessità di avere prodotti come questi e non averli dentro la borsa serbatoio in realtà c'era molto altro come ad esempio stiamo girando qui via via come dicevo un ipad consigliatomi dal 6 per cento perché se avessi avuto problemi ad addormentarmi in tenda cosa che non ho avuto avrei potuto guardarmi qualche serie tv tre power bank spostandoci dietro invece abbiamo tutto l'occorrente serio del campeggio manca qualcosina tipo gli stivaletti che ho utilizzato per non usare quelli da campeggio ma qui c'è bella roba allora ecco intanto c'è la confezione dei tempo che sarà un attimino schiacciata perché al ritorno questa borsa era tracolma però vedete sono forzati tempo no ad v magari ad v c'è anche l'isolante per la pioggia per la valigia che non ho usato perché comunque questa è abbastanza impermeabile di suo come vi dicevo voglio partire dal materassino perché questo materassino di ferrino è perché non serve neanche dire dovrebbe è un buon materassino il punto è che alle 3 di ieri si è sgonfiato ora non fatemelo aprire perché poi richiudere tutta sta roba è difficile vi metterò degli spezzoni in cui si può vedere ciò di cui vi parlo però questo materassino intanto è bello lungo e poi è bello spesso quindi quando lo gonfiate lo gonfiate semplicemente con il piede non serve usare la bocca e tantomeno un compressore diventa spesso così che per un materassino da campeggio è un buon spessore in realtà quindi ho scelto lui la prima notte andata da dio anzi era fin troppo gonfio l'ho dovuto sgonfiare un po per avere un comfort giusto ma poi la seconda notte la seconda notte alle tre di notte inizia a sgonfiare ora devo capire se si è danneggiato il sistema di gonfiaggio sgonfiaggio o se si è forato non credo che sia quest'ultima l'opzione perché stavo dormendo non è che mi sono messo a trascinarlo sul terreno erano le tre di notte dormivo già da parecchio ad ogni modo come potete vedere lui è veramente tanto compatto e leggero quindi quando dovete metterlo in una borsa da moto è fantastico perché vi occupa pochissimo spazio ed è anche molto leggero quindi quello pure incide non vi caricate troppo passando oltre oltre il materassino e questo col cacchio che ve lo apro abbiamo il sacco a pelo sacco a pelo sempre di ferrino quindi sempre molto leggero questo è un sacco a pelo che offre come temperatura ideale 0 comfort in realtà 0,5 e massima 18 minima meno 15 quindi comunque sacco a pelo abbastanza già invernale infatti non ho avuto problemi di freddo con lui tanto meno di umido 100 per cento poliestere peso di un chilo e mezzo dimensioni 220 per 80 per 50 millimetri mi ci sono trovato da dio aveva ben più di quello che mi serviva 220 millimetri io sono 1,80 quindi ci stavo comodissimo era anche largo per certi versi ma meglio perché mi incappucciavo tutto mi coprivo stavo benissimo non ho avuto minimamente freddo con lui e da richiudere è stato abbastanza semplice perché questa la sua confezione è regolabile quindi voi intanto lo buttate dentro poi la chiudete considerate che questa roba ragazzi non è ancora stata lavata ed è stata chiusa ieri mattina sotto l'acqua al base camp e in mezzo al fango quindi non è stato semplicissimo dal punto di vista dei costi sapete come la intendo io cioè va bene spendere poco però se devo spendere poco per avere roba con cui poi ho freddo sto scomodo non mi fa neanche tanto felice quindi questi sono prodotti che non sono top di gamma non costano come dei top di gamma però non sono nemmeno ciopeche dal mio punto di vista però è stata una spesa logica che potevo permettermi che volevo permettermi vi lascio tutti i link in descrizione ve l'ho già detto quindi vedrete che non sto parlando di cifre esagerate più o meno tutto questo kit siamo sui 200 euro ma andiamo avanti qui dentro questo è veramente uno spettacolo minuscolo lui questo è il cuscino cuscino che si gonfia questo ve lo posso aprire perché tanto è una cavolata anche perché non credo di avere delle riprese in cui si vede bene è un piccolo cuscinino che guardate ha questa dimensione qui comodissimo lo gonfiate a bocca ed è comodissimo se volete migliorare il comfort ogni tanto mi è sfuggito durante la notte non lo trovo più perché non è grandissimo però quando lo trovavo e avevo una bella posizione per dormire beh sono stato più comodo andiamo di nuovo sulla nostra Himalayan quanto è bella la mia casa è stata per questi giorni e ora arriviamo al pezzo forte vi ho detto non volevo spendere troppo non volevo spendere troppo poco ma nel caso della tenda mi sono pesantemente accontentato perché ho scelto lei 28 euro questa quasi quasi ve la monto voglio farvi vedere quanto sia facile da montare io pensavo che montare la tenda fosse una cosa difficile volevo prendere le tende quelle a montaggio rapido di Decathlon che però sono molto ingombranti questa invece chiusa malissimo ieri sotto l'acqua è abbastanza compatta e quindi è perfetta per essere portata in moto e anche molto leggera garanzia di tre anni Decathlon 130 mm di larghezza per ospitare due persone 107 di altezza si può stare seduti ad avanza ancora parecchio spazio e 210 cm di lunghezza quindi meno che non siate dei giocatori di NBA non dovreste avere problemi ma montiamola ed ecco qui la tenda montata non ci è voluto molto basta qualche minuto non l'ho picchettata perché chiaramente non mi serve picchettarla qui per il video ma non l'ho picchettata nemmeno al base camp del 6% perché per quanto piovesse ci fosse bufera non c'era vento quindi i picchetti che sono di buona qualità se volete vi permettono di fissare la tenda per terra ci sono anche dei tiranti proprio se volete fare i lavori perfetti io non sono tipo da lavori perfetti sono tipo essenziale la tenda è questa qui ha un telo esterno come tutte le tende e un telo interno ve la faccio vedere anche in prima persona per spiegarvi un po' l'abitabilità ripeto considerate che la tenda è sporca e c'era fango c'era quel fango lì ovunque intorno quindi è rimasta sufficientemente pulita certo non è pulita però ragazzi guardate che figata una moto come l'Himalayan una tenda si va ovunque ci si diverte e si è proprio esploratori cioè questo a me io guardo questa scena in questo momento e desidererei di riproporla a voi e a me altre cento volte che moto l'Himalayan e quanto è bello quanto è stato bello campeggiare in tenda nonostante l'acqua e il diluvio universale figuratevi con il sole con una giornata così comunque vedete dentro è bella spaziosa qui abbiamo anche queste cerniere che ci permettono di chiudere dall'interno ovviamente se chiudete solo questa avete anche la possibilità di guardare fuori e i teli sono rimasti abbastanza asciutti quelli interni l'esterno ovviamente dopo l'acqua battente si è un po' bagnato è molto lunga come potete notare 210-220 mm poi ho preferito la prima notte sistemare il materassino al centro e le cose ai lati la seconda notte invece ho spostato il materassino di lato leggermente storto per avere un po' di diagonale e tutta la roba su questo lato qui mettendola anche diciamo impilata per avere più spazio utile ed è stata la soluzione che ho preferito la tenda ha resistito all'acqua senza problemi il fondo isola abbastanza bene certo se avete un telo mettetelo sotto perché è meglio e io ci ho dormito veramente da dio ve la faccio vedere anche chiusa si sgancia qui si chiude sia dall'interno che dall'esterno si può fare prima il telo interno così e vedete cioè se vi svegliate la mattina e c'è bel tempo potete pure restare così se invece c'è brutto tempo come l'ho tenuta io tutti e due i giorni fate in questo modo così siete perfettamente isolati dato che ci siamo ultimissima cosa guardate qua che disastro qui ci sono i picchetti da qualche parte non li ho proprio aperti eccoli qui vedete questi andate a picchettare cioè infilate questo qui e bloccate la tenda però ripeto se non c'è vento potete anche evitare soprattutto se avete roba pesante nella tenda e quindi ragazzi così sono andato in campeggio due notti in inverno con 2-3 gradi pioggia e umido si può fare si può andare in moto e si può anche campeggiare in inverno basta avere la giusta attrezzatura non vi ho detto qual era la mia attrezzatura addosso ma è la stessa che avete visto sul pollino quindi capi da Inese in Goretex, i vali da Inese in Goretex, i guanti ve li ho fatti vedere, casco a GV, adventuring tutti i link all'attrezzatura da moto, all'attrezzatura da campeggio e qualcosa che ho dimenticato li trovate in descrizione e secondo me per essere un kit di partenza può durarvi diversi anni devo solo capire quel cacchio di materassino perché si è sgonfiato ad ogni modo spero che questo video decisamente diverso dal solito vi sia piaciuto ringrazio ancora una volta il 6% per questa bella esperienza che senza di loro non avrei fatto Royal Enfield per aver messo a disposizione la moto definitiva per questo tipo di esperienza cioè la Royal Enfield Himalayan vi faccio una domanda che vi ho già fatto capiamoci bene, vorreste vedere più spesso un Himalayan sul canale? ringrazio anche voi per aver seguito sia l'avventura che questo video e noi ci rivediamo molto presto in un prossimo video ciao ciao